Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video Oggi vi mostrerò come fare il jailbreak ad un dispositivo con iOS 5 Io personalmente ho provato su iOS 5.1.1 e funziona alla perfezione Intanto dico che questa installazione sarà un'installazione permanente In quanto quando noi spegniamo il nostro dispositivo e poi lo riaccendiamo rimane il jailbreak Naturalmente se quel jailbreak non vi dovrebbe creare problemi basta ripristinare il dispositivo Ma questa cosa qui non succederà perché con questo metodo verrà un'installazione pulita Intanto vi consiglio di fare un backup da iTunes Quindi mettere tutto ciò che avete sul vostro dispositivo iOS 5 su iTunes Dopodiché connettete il dispositivo attraverso l'apposito cavo dock E installate questa versione di Absint Questo è Absint per Mac Io vi metterò in descrizione tutte e due Ma basterà che scrivete sul browser Absint 2.0.4 La installate e vi compare una cosa del genere Comunque io lo faccio per il Mac ma per Windows sarà la stessa cosa Cliccate l'icona due volte Qua vabbè nel caso del Mac vi chiederà di sicuro di volerla aprire questa applicazione L'apriamo Dopo aver connesso il nostro dispositivo In questo caso un iPod Touch di quarta generazione Vabbè l'ho fatto anche con il 3GS Però vi faccio vedere quello che ho fatto io Connettete il vostro dispositivo che sia iPad, che sia iPhone, che sia iPod Touch Dopodichè qui il pulsante jailbreak sarà spuntato in nero Io visto che non ho connesso ancora nessun dispositivo Visto che l'ho già fatto Non me lo fa cliccare Allora cosa dovete fare? Connettete il vostro dispositivo Con iOS 5.1.1 ragazzi Ricordatevi 5.1.1 Se non avete questo aggiornamento Con questa versione di Absint Non potete fare niente Potete andare a danneggiare il dispositivo Io ve lo dico per correttezza Allora Quindi aggiornate il vostro dispositivo iOS 5.1.1 Dopodichè cliccate su jailbreak Farà una procedura tutto automatica Insomma ci metterà circa un paio di minuti Meno di 5 minuti ragazzi State nei sicuri Dopodichè Cosa succede? Dopo che la barra del caricamento arriva alla fine Voi potete staccare il dispositivo Staccare dalla dock Riavviate il dispositivo E vi troverete Cydia Già installato Poi vabbè Vi dovete mettere apposite Evo per installare Da Cydia Quindi questo è come fare Il jailbreak Con Absint Su iOS 5.1.1 Noi ci vediamo al prossimo video Salve a tutti ragazzi Alla prossima